Radio Zeta Future It's Life 2023 Achille Lauro Blanco Madame Elodie San Giovanni Annalisa Mister Rain Tommaso Coradiso Lazza Pinguini Tattici Nucleari Mahmood Emma Dana Knight Cazzelli Rocco Hunt Rosa Chemical Ariete Rove, Geolier, Matteo Paolino Fresh, Rosvillen Alfa, LDA, Mara Sattei Toro Boro, Elettra Lamborghini A 360 gradi Sabato 10 giugno Centrale del Foro Italico, Roma Ultimi biglietti disponibili su TicketOne.it